Ciao, sono Paola Voto Brusadelli, consulente d'immagine, make-up artist e persona shopper. Faccio questo lavoro da circa 4 anni. Il mio lavoro consiste nell'aiutare le donne a sentirsi più belle, piacersi di più, grazie all'uso corretto dei colori, dell'abbigliamento, lo stile, il make-up. È un lavoro che amo molto, però all'inizio ho avuto la difficoltà di farlo conoscere, farne capire l'utilità. Per cui, mentre io non ho assolutamente problemi, chiaramente, per quello che è la parte creativa, ho un po' più difficoltà per quello che è il business, la parte numerica, diciamo. Allora mi sono iscritta al corso Business 4 Medi. Confesso, inizio con un po' di timore perché avevo paura che non mi piacesse, visto appunto che si parla di business. Invece posso dire che il corso mi è piaciuto moltissimo perché Gemma e Samantha sono molto brave e soprattutto hanno la capacità di fatti arrivare questi concetti. Praticamente ti danno gli strumenti per raggiungere quelli che sono gli obiettivi, i tuoi obiettivi. Sono gli strumenti efficaci perché hai un metodo da seguire. I miei obiettivi principali erano quelli di aumentare il fatturato e di allargare il giro della clientela. Devo dire a distanza di mesi che ho raddoppiato il fatturato, ma soprattutto la cosa bella è che mi hanno appunto fornito questo metodo per farmi capire che posso raggiungere ancora altri obiettivi. L'importante è appunto avere la costanza. Io posso dire a tutte le donne che come me sono libere professioniste, in qualunque ambito loro operino, di iscriversi a questo corso, di provare a farlo perché sicuramente vi può dare una grande shopper per migliorare e raggiungere quello che volete. di farlo.